su questo canale avevo fatto un video molto vecchio dove spiegavo tipo lunghezza focale diametro come calcolare il rapporto focale quanti ingrandimenti posso fare con gli oculare con il mio telescopio oltre che essere molto vecchio quel video è stato fatto è stato un genio questo commento uno mi ha commentato chiedendo se aveva usato il filtro di barbara d'urso perché non so cosa avessi fatto è tutto bruciato perché avevo si vede impostato male la reflex è bruciatissima allora fantastico un genio allora volevo volevo provare a rifare un video una clip di cinque minuti è un po sulla terminologia davvero davvero spiccia e anche sulle domande che mi fanno più spesso dove proviamo provo intervistarti provo a farti queste domande cercando di restare un po nella frase o due per ogni cosa nel senso per dare un po di nozioni rapide andiamo proviamo con le domande al volo tipo di terminologia e che si ritrova davanti la persona quando si mette a guardare i telescopietti così da 150 200 300 euro e non ha idea di che cosa c'è scritto perché capiamo le specifiche di un cellulare ma non un telescopio tipo la lunghezza focale se non faccio nemmeno fotografia di giorno e non fotografo neanche la cresima di mio ipote che cos'è la lunghezza focale allora ricordate quando erate piccoli prendevate la lente di ingrandimento e poi col sole bruciavate la carta dovevate trovare un punto esatto in cui la luce del sole venisse concentrata la lunghezza focale non è altro che questo cioè il punto e la distanza dalla lente o dallo specchio in cui la luce viene concentrata in un singolo punto quindi la distanza che c'è tra quel punto e la superficie diciamo dello specchio dell'ottica si chiama distanza focale il diametro l'hai già detto benissimo abbinandolo simboleggiandolo con la pupilla comunque il diametro è una proprietà fondamentale e certo perché immaginate di avere un imbuto di 5 centimetri o un imbuto di 50 centimetri quando piove qual è quello che raccoglie più acqua certo di 50 centimetri riesce a raccogliere più gocce di quello di un imbuto di 5 centimetri poi chi si deve orientare vede diverse lunghezze focali è anche importante poi raccontare che la lunghezza focale poi ti porta anche ad avere scale diverse di ingrandimento se osserviamo non si direbbe ingrandimento in fotografia però ecco per dare l'idea comunque la scala si può fosse corretto per entrambi gli ambiti la scala del dell'immagine o dell'osservazione perché poi lo si deve abbinare a un qualcosa che sta dietro che è un oculare se osserviamo o una macchina fotografica se vogliamo agganciare quella però ecco come faccio a calcolare gli ingrandimenti che faccio col mio telescopio se metto se prendo il mio rifrattorino 900 millimetri circa 70 900 con il mio ocularino dietro da non so 20 millimetri allora per calcolare il numero di ingrandimenti apparenti perché poi sono ingrandimenti apparenti che tu hai all'oculare semplicemente non devi fare altro che dividere la lunghezza focale in questo caso è detto 900 millimetri se noi utilizziamo un oculare di lunghezza focale 10 mm sono 900 diviso 10 sono 90 ingrandimenti dividiamo la lunghezza focale del tubo per la lunghezza focale dell'oculare che tra l'altro c'è scritto sopra anche sugli oculari quindi è facile un numero facile da reperire ok più grande numero sull'oculare minore è l'ingrandimento però ci consentirà di vedere un campo più grande è come aprire una finestra di più o di meno e concentrarsi su un particolare anziché concentrarsi su una scena più grande quindi un oculare che ingrandisce di più ti fa vedere un campo più piccolo e un oculare che ingrandisce di meno ti fa vedere un campo più grande e se ieri sera avete montato il 10 millimetri avete visto benissimo e stasera lo montate non ci vedete non è colpa del negoziante che vi ha fregato e non si è rotto il telescopio ma poi lì dovete sottomettervi a una variabile che forse è quella che fa da padrona in tutta la questione che noi poi tecnicamente chiamiamo seeing che poi significa il guardando il tradotto in italiano è il guardando che in realtà non è altro che la turbolenza dell'atmosfera immaginate che la nostra atmosfera non è una roba intangibile in realtà è un gas è un insieme di gas che possiamo considerare come un liquido avete presente quando è estate e fa caldo e sull'autostrada vedete quelle linee quelle cose che distorcono esatto è la stessa cosa quando vuoi raggi sono i miraggi del deserto esatto c'è l'atmosfera muovendosi avendo anche velocità diverse e temperature diverse tende a distorcere le immagini se l'atmosfera si muove molto voi avete immagini molto distorte se l'atmosfera è abbastanza ferma allora voi riuscirete a vedere anche con ingrandimenti maggiori altrimenti sembra non riuscite nemmeno andare a fuoco conviene avere ingrandimenti minori ma è una roba che noi non possiamo controllare assolutamente e poi allora a questo punto va bene stanziato il budget ho capito come muovermi sulle misure anche del telescopio comunque come poterli un po confrontare volessi val fotografia o comunque scopro che esiste il rapporto focale mi chiedo che cavolo che accidenti sia quest'altro numero che devo imparare per poterci capire qualcosa che cos'è il rapporto focale ma in realtà se facciamo un po di semplice matematica è semplicemente il diametro rispetto al diviso la c'è la lunghezza focale c'è quindi il punto in cui mette a fuoco il vostro la costa ottica diviso il diametro quindi se noi abbiamo un 200 mm f10 vuol dire che avrà una focale di 2 metri esatto cioè è in realtà il rapporto fra il diametro dell'ottica principale e la sua lunghezza focale ovviamente possiamo avere lo stesso diametro è una lunghezza focale più corta allora anche il rapporto focale risulterà un numero più basso quindi una focale che noi indichiamo come più aperta significa che l'angolo nel quale convergono i raggi è più acuto oppure meno acuto questo è quindi ovviamente vuol dire che immaginatelo che guarda verso il cielo questo anno inquadrerà un angolo maggiore o minore di cielo a seconda se il rapporto focale è più aperto o più chiuso immaginiamo proprio praticamente aperto chiuso e capiamo cosa mi dà il rapporto fuoco e dall'altra parte è anche una proprietà importantissima per la fotografia perché riguarda la rapidità o la lentezza dello strumento in termini fotografici nel senso quanta luce riuscirà acquisire a parità di tempo la mia macchina fotografica se ho un rapporto focale rapido riempie prima questi nostri diciamo sensori di luce e riguarda il numero i numeri più bassi perché non lo si deve immaginare ecco infatti più è basso questo numero più velocemente il nostro sensore viene riempito di segnale più è alto questo numero maggiore il tempo che ci vorrà per riempirlo di segnale chi inizia a fare astrofotografia dalle basi ancora oggi per quanto i primi cimos astronomici siano davvero molto economici ormai però molti iniziano ancora con reflex che sono certamente poco sensibili per gli scatti notturni meno delle camere astronomiche lì il rapporto focale incide quindi io ho sempre consigliato di stare dall'f6 in avanti in giù però perché ho visto che avevo provato a fare esperimenti all'epoca con smith casker in f10 avevo avuto difficoltà anche a ridurlo in realtà anche riducendo la f6 con la reflex avevo fatto fatica avere un segnale di ricevere un'immagine che ti che ti piaccia che per cui tu dica bella fotografia difficile grazie alla prossima ciao ciao a tutti